Mister, quale sarà la formazione in vista della gara con il Grosseto? Veniamo da una partita importante contro il Pisa, c'è il rientro di Diagite e poi bisogna sottolineare anche l'importanza della partita di Luca Di Matteo contro il Pisa. Questi sono due dubbi che ci portiamo dietro fino a domenica, per il resto la squadra sta bene, questi sono problemi di abbondanza, quindi è una cosa positiva. L'importante è di affrontare questa partita con il piglio giusto, con la voglia giusta e soprattutto con la determinazione che ci ha contraddistinto fino adesso perché comunque non sarà sicuramente una partita facile. Ci incontriamo il Grosseto che è un'altra grossa squadra, una piazza importante, con giocatori importanti perché sono giocatori che hanno ben fatto negli anni precedenti, quindi in questo momento qua hanno qualche problema, hanno cambiato allenatore, quindi c'è un po' di problemi lì, quindi questo per noi sarà sicuramente un motivo in più per cercare di essere attenti e di non affrontare questa partita con poca concentrazione. Noi dobbiamo andare lì e impostare la partita sotto l'aspetto dell'aggressività, del ritmo, dobbiamo dare tanto ritmo al gioco perché altrimenti se abbassiamo il ritmo e ci mettiamo a giocare con i loro ritmi, loro hanno sicuramente una qualità importante e potremmo andare in difficoltà. Noi lavoriamo molto sugli atteggiamenti della squadra avversaria, sulle giocate della squadra avversaria, è chiaro che ci sarà una preparazione della partita più impostata sulle nostre cose perché ci dobbiamo aspettare che Stringara sicuramente farà delle modifiche, cambierà atteggiamento che potrebbe essere più aggressivo, potrebbe essere un po' più difensivo, quindi bisogna andare a leggere immediatamente la partita per cercare di non essere impreparati magari a quello che potrà dire in una settimana Stringara.